E' passato un mese dall'ultima volta che ho fatto un video su Xenoverse 2 e non volevo farlo più, in quel video dicevo no non lo faccio più, non lo faccio più, non lo faccio più, però mi serve qualcosa da fare fino a quando non uscirà WWE 2022, quindi ho deciso, porterò avanti la serie di Xenoverse 2 che ho fatto dall'inizio del mio canale, bella lunga, porterò avanti fino a quando non uscirà WWE 2022. Quando uscirà WWE 2022, ciao, quindi è a tempo, credo che abbia gennaio, febbraio o marzo, il gioco dovrebbe uscire a marzo, quindi io per marzo dovrei aver finito la serie, serie che cosa consiste? Con questo vista è il video che ho fatto prima, classificato online con i personaggi casuali, non ci fate caso a questo, l'ho fatto a scuola che non gioiavo niente da fare durante i commenti di matematica, classificate con i personaggi casuali, classificate normali, con i personaggi a tema, come si chiama? Con la storia degli eroi, che andremo a fare oggi? Andremo a fare oggi? Io mi sono dimenticato, stavo andando a fare tipo le classificate, e no, e no, dobbiamo fare questo. Facciamo la capsula bonus accesso, io oggi ho nuovi portafortuna, cioè nuovi, uno, che forse è molto bello, secondo me sarà molto bello, però lo dobbiamo cacciare fuori solo e esclusivamente quando serve, Perché se non serve è inutile che lo facciamo, non riesco a vedere quanto utilizzo i massi show perché c'ho una cosa davanti, quindi facciamo 5, c'è una cosa da 100, cioè no, sto zitto, meglio, vai, riusciamo a trovare, slug, e la prima è, che schifo, seconda, gohan sr, mi sono messo maura, janin biu, e kidbu sr, Vabbè, almeno abbiamo trovato due nuove che non ci avevamo, allora, mo ci abbiamo subito la capsula R sbloccata, non me ne ero accorto che non potevo vedere, meglio così, meglio così, allora, sono uscite nuove miniature, è uscito gogeta, è uscito jiren full power, e non so che sia uscito altra roba, non lo so, non mi sono informato sinceramente, che non me ne fregava più di tanto, però, andiamo, vabbè, facciamo questa capsula, ur capsula, capsula, ur capsula, vediamo se esce qualcosa, cosa di nuovo, un jiren, Zamasu, Zamasu, questo quando è uscito faceva già schifo da solo, però, io non ho mai usato, che non mi piace, va bene, va bene, non è andata così male, mo vediamo in questa capsula, se fa schifo, allora, possiamo usare il portafortuna, se invece, va abbastanza bene, come ho detto prima, è inutile se il portafortuna, e sprecarlo, no? allora, go, un adulto, c17, credevo che era UR, pure questa, dobbiamo andare a prendere il portafortuna, aspettate un attimo, mo vengono aspettate, sta qua, sta qui, ma, mo lo prendo, ma, questo è Thor, no? è Thor, è della Marvel, e a me non piace la Marvel, più bella di sì, più bella di sì, e mo che uso io? io mi ricordo che questo, mi porta a fortuna, nelle prime, nei primi spacchettamenti, questo qua mi porta a fortuna, mi feci trovare belle miniature, o nuove miniature in generale, comunque mi faceva trovare le cose, quindi, mi raccomando, eh? io non ti ho usato per molto tempo, quindi, mo, visto che non ti ho usato per molto tempo, fai qualcosa, non mi sporcare il joystick però, per favore, ok? credo che l'ultimo eh? oh, e niente, e niente, e ser, si sta comportando male, ah, sta cosa di merda si sta comportando, devo, devo una testata, mo devo tirare dentro è Gohan, è Gohan, è no, è no, è Gobardak, è no? oh, oh, però allora, è nuovo? è il nuovo? è il nuovo? sì, è il nuovo aspetta un attimo, devo controllarmelo se è il nuovo, o se non è il nuovo allora è, 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 probabilmente, sì, è il nuovo, no? cioè, questo, cioè è nuovo è Gogeta vabbè, effettivamente, questa è Gogeta, quella è Gogeta sei fortunato, ti lascio qua ti lascio qua ok? non mi fa cadere il microfono, per favore, che questo c'ho abbiamo trovato Gogeta suppongo che sia il nuovo credo che sia il nuovo però sicuro che sia il nuovo però no, niente però, siamo a posto, cioè io starei posto pure così, posso pure toglie eh no, eh no, che poi il video fa schifo, non lo posso fare dobbiamo aprire per forza degli altri me ne mancano 900 se riusciamo a trovare pure Giren abbiamo sbancato questa volta non voglio riusare Gogeta perché non voglio usufruire troppo della sua energia poi dopo si scoccia, mi picchia, è un bordello Tapion Cooler e vabbè Vegeta VGSR, buono non ti voglio manco dire che fai schifo tu brutta merda che ti scorreggi in testa e vorrei usare un altro porta fortuna ma diciamoci la verità non c'è nessuno porta fortuna che ha portato la fortuna fino ad adesso abbiamo usato per forza Gogeta e lo usiamo dopo questa vediamo se riusciamo a trovare qualcosa ma se riusciamo a trovare qualcosa lo sai lo sai che io sono un attimo morto nella mia qua eh sono morto pure qua sono morto qua no che fa schifo se mi hai fatto schifo allora Gogeta guarda tu lo sai io io ti voglio bene tu lo sai no tu mi hai fatto trovare cioè nel senso no ok quindi fammi trovare Giren o un altro Gogeta io ti tengo qua ti tengo qua vediamo che mi devi far trovare ma è fortissimo ma è fortissimo ma ho fatto trovare un altro ma è fortissimo no SR vabbè no già che mi hai fatto trovare l'URS nene 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 è bellissimo allora Freezer SR no vabbè la possiamo togliere da mano e lui SR ma nessuno ce ne fa schifo poi avanti e VG VG fa schifo però bravo nonostante questo mi hai fatto trovare un UR cioè non la userò mai però è buono eh c'è usamolo di nuovo ma ma che ce ne frega no ma che ce ne frega no cioè io l'ho preso due volte due volte questo mi ha fatto trovare le UR cioè io senza di lui non ho trovato manco un UR speriamo che ci fa trovare qualcosa almeno pure adesso no questo Broly mi fa venire proprio le cose brutte a me Goten e cure lo sapevo che non devo usarlo perché lo scifrutto troppo assai allo fermi allora Goku o Gogeta scusa Gogeta io adesso ti uso però sarà l'ultima volta ok non ti rompere più le palle per un bel po' di tempo però per favore fammi trovare una cosa spettacolare per favore ok io ti lascio qua sopra proprio in simbolo che non ti uso più ti lascio stare però mi devi far trovare qualcosa ah è nuova è nuova cioè io non ce l'avevo ma è nuova 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 o nel senso è nuova e basta non l'ho mai vista io non l'ho mai vista questa vabbè in ogni caso è nuova quindi io ho il tuo promesso ti lascio stare tu stai là ora mi ne prendo un altro ah ma ci sto questo guarda cortesia del piccolo me guarda com'è bello ci ho giocato molto quando ero piccolo infatti tutto sfondato senti quello là mi ha fatto trovare di tutto se tu adesso non mi fai trovare niente ti butto eh ti fai male io ti butto non voglio sapere niente mi raccomando io adesso me ne faccio una io faccio vedere però se poi me la sbagli ti do pure tempo dopo però se me la sbagli io ti butto non me ne frega me ne faccio una io guarda stai qua a guardare guarda non cadere non cadere per favore non cadere ok guarda ti faccio e si fa così e devi trovare i personaggi eh ok ora vediamo se lascio trovo qualcosa bills non niente questa è una cosa che non devi trovare questa è una cosa che devi trovare per esempio l'ur non buona niente non serve però comunque è buona cioè nel senso l'ur è buona questo no fa schifo e questo è un R che si deve buttare nel gabinetto hai capito che devi fare ecco colpito vai 1 1 1 M O e dai bravo vedi quando vuoi fare le cose fammi qualcosa è serio non andiamo bene non andiamo bene non andiamo bene non andiamo bene cominciò la mano N abbiamo trovato due goget io questo qua questo gogeta qua è vecchio mi ricordo vabbè vecchio non tanto però comunque è è antico è un vecchio gogeta vabbè è vecchio è uscito miliardi di anni fa però comunque è buono ci abbiamo trovato gogeta gogeta blu broly freezer e gogu god chiuso di nuovo vedi chiuso di nuovo tanto visto che tu mi hai portato la fortuna potrei va vai vai vediamo se trovi un altro dai zamasu vabbè zamasu vabbè tapion fa schifo caolifla fa schifo fu pure e questo è il fratello brutto cinese di freezer e non ne trovato nessuno ti vorrei buttare ti vorrei buttare ma non lo voglio fare ah facciamola qua aspetta allora facciamo un batto io mo faccio così qua ti faccio apri se trovi qualcuno non ti butto se trovi tutto schifo ti lancio già stai bella male già stai brutta strata brutta strata no no oh tapion ok va bene vedi quando sei sotto pressione lavori meglio vedi allora io ti metto qua gogete ci sta ancora là vorrei usarlo però ma che cazzo non ne frega vieni qua ma come mamma libera no fammi trovare qualcosa pure muori ma come ti vai metti fammi trovare qualcosa questo non è qualcosa questo manco questo non so neanche che cos'è questo è brutto e questo fa schifo Inutile Inutile